Sono nove le vittime dell'ultimo massacro in ordine di tempo in un college statunitense. La dinamica è simile a quella di tante altre stragi. Con un'irruzione armato di fucile un ragazzo sui 20 anni è entrato nella facoltà di scienze di un'università di Rosberg nell'Oregon e ha aperto il fuoco. Nove persone uccise e sette ferite di cui tre versano in gravi condizioni. Saranno poi le forze di sicurezza a colpire a morte l'assalitore. Una nuova violenza che ha spinto un Barack Obama affranto a chiedere il sostegno di tutti per cambiare le leggi sulle armi. È quasi diventato tutta una routine, ha detto il presidente statunitense. Il racconto dell'accaduto e la mia reazione da questo palco sono diventate una routine. I nostri commenti, i giorni successivi lo sono. Siamo diventati insensibili, ma non è possibile che sia così facile per qualcuno che vuole fare del male recuperare un fucile. Secondo le prime informazioni, il killer, che era in possesso di tre pistole e un fucile, avrebbe espresso le sue intenzioni sui social network, fino ad annunciare nei dettagli il suo piano. Arrivato in università, l'assalitore sarebbe poi entrato nella classe chiedendo ai presenti di alzarsi e dichiarare la propria religione prima di sparare. Non è chiaro però chi fossero gli obiettivi del suo attacco. Grazie. Grazie.